Buone notizie per il comune di Cavriglia, sono ufficialmente terminati i lavori della banda larga. Infatti anche nel Fondovalle è arrivata la fibra ottica che permetterà a tutti gli abitanti di soffrire del servizio ADSL. Era uno dei servizi molto attesi dalla nostra comunità, dai nostri cittadini, ma anche in particolare dalle nostre aziende. Perché l'ultima parte del territorio che era rimasta scoperta era quella del Fondovalle, quindi Santa Barbara, San Cipriano, Cetinale, Meleto, Montanina. E per l'appunto è la zona dove sono concentrate la maggior parte delle nostre aziende. Il servizio di banda larga che solo all'inizio di questo anno era arrivato nel centro di Cavriglia, dopo aver raggiunto la cabina di Santa Barbara, d'oggi potrà essere utilizzato da tutte le famiglie e le aziende della zona. Grande soddisfazione per avere finalmente concluso una delle opere più attese dalla nostra comunità.